Dal ministro degli esteri della repubblica irlandese a Belfast Ma non l'avete visto ancora bene? Cosa vuol dire? Un bambino sputato dal centro di una guerra In un cortile In un palazzo a cinque piani Più o meno senza sole Cercare tra la neve Le sue prime parole Ehi ragazzi italiani E già venivano su Ehi ragazzi italiani E già veniva su Mio padre a quel tempo aveva i baffi E un'automobile a carbone Girava il mondo con gli amici Lui girava da padrone Oggi all'osteria del futuro Io con i miei amici a sbattere la testa contro il muro A bere vino a parlare delle donne E del futuro da cambiare Ehi ragazzi italiani E già veniva su Ehi ragazzi italiani E già veniva su Tu che nascerai sotto un ponte Da una cagna regina di strada Tu con una stella sulla fronte Tu raccosta una fermata Proprio tu Ma non l'hai visto ancora bene Cosa vuol dire? Con in mano pochi anni e sapere già come andrà a finire Confusione fra le vede, vivere quasi in un mondo che non ti appartiene Con la tua valigia in mano, col tuo passato che è passato E il tuo futuro è già lontano Dei ragazzi italiani, ora parla di tu E coi ragazzi italiani, ora stocci tu E tu che nasci domani, tu sì, proprio tu E coi ragazzi italiani, ora stocci tu E coi ragazzi italiani, ora parla di tu E coi ragazzi italiani, ora stocci tu E coi ragazzi italiani, ora stocci tu Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti